Campania, Boon House, inaugura a Napoli. A Napoli, in via Kerbacher, nasce un modello innovativo di fast food, con panini adatti a qualunque alimentazione, tenendo un punto fermo sulla tradizionale con menù, ovviamente, all'insegna del mangiare sano, e i panini in vendita sono realizzati anche con prodotti tipici campani. Si chiama Boon House di Salvatore e Cristiano De Rinaldi, nome ricorrente della gastronomia partenopea, già titolari del ristorante e pizzeria Casa De Rinaldi a Rione Alto di Napoli. Si propongono panini e boon. I boon sono di produzione propria, rigorosamente di qualità, ed è in grado di soddisfare tutte le esigenze delle persone, da quelle che consumano panini tradizionali a quelle che seguono diversi gusti alimentari. Bisogna offrire in un unico locale panini e piatti veloci che si adattano ai diversi stili alimentari. La strategia deve andare oltre l'aspetto commerciale e sensibilizzare un vero e proprio stile di vita sano, che merita il giusto rispetto e che è in forte aumento. Tutti i panini e i piatti proposti, compresi i dolci, devono sempre essere all'insegna del mangiare sano. Se ci sarà sinergia tra i vari operatori, si potrà ottenere un importante risultato che realizza le aspettative di rilancio del comparto della ristorazione con ricette popolari, tradizionali della città metropolitana di Napoli e di tutta la regione Campania. Il futuro dell'Europa è nel rispetto della diversità alimentare. Ogni terra ha la propria cucina. Così il portavoce della Consulta Nazionale per Agricoltura e Turismo, già delegato al settore Agricoltura della provincia di Napoli, Dipartimento Nazionale Ambiente Agroalimentare, Alimentazione e Biodiversità, Pesca, Risorsa, Mare e Ristorazione, del signor Rosario Lopa, che ha presenziato all'evento. Tratto da comunicato stampa della Consulta Nazionale per Agricoltura e Turismo, Teresa Bonasi.